Alla croce non c'è spiegazione, c'è Dio, non la vanità né la gioia del cuore. Sono i concetti espressi da Papa Francesco nell'omelia della Messa del Mattino a casa Santa Marta. Il pontefice ha preso spunto dalla storia di Tobi e Sara, suocero e nuora, che sono assaliti dallo sconforto perché vivono momenti di difficoltà e di buio, subendo insulti e vessazioni e per questo vengono sfiorati dal pensiero della morte, che però farebbe ancora di più soffrire chi li ama. Nella loro storia ci sono pure momenti belli perché dopo la prova, detto il Papa, il Signore si fa vicino e li salva. Quelli sono momenti autentici, non di bellezza truccata, artificiosa, un fuoco d'artificio, non è la bellezza dell'anima. E nella prova, come nella bellezza, allargano il cuore, ha proseguito il Papa, nella preghiera di ringraziare. L'invito di Francesco è stato quello di chiedersi ogni volta se nella gioia non ci sia inganno della vanità e se nel dolore siamo capaci di scorgere la presenza del Padre. Questo è l'atteggiamento che ci salva nei momenti brutti. La preghiera, la pazienza, perché tutti e due sono pazienti col proprio dolore. E la speranza che Dio ci ascolti e faccia passare questi momenti brutti. Nei momenti di tristezza, poca o tanta, nel momento bui, preghiera, pazienza e speranza. Non dimenticare questo.